Ben ritrovati a tutti voi, buona domenica sera, ben ritrovati con risultati e classifiche. Aggiorniamo ancora il conto dei gol con le immagini e poi le classifiche dei principali campionati che vedono impegnate le squadre pugliesi e Lucane. Tra poco scenderemo in campo, ma prima un recap rapido. Lo facciamo partendo dalla serie di Girone H, tanti risultati importanti come quello della Fidelisandria che vince sul campo del Gravina a Matera. In questo caso la vittoria del Brindisi sulla Nocerina perde in casa la Virtus Francavilla. Eccola qui la quattordicesima giornata. Realacerana Manfredonia 2-1, Costa Damalfi Ischia 0-2, Gravina Fidelisandria 1-6, Palmese Nardò 0-1, Casarano Francavilla Insigni 1-0, Fasano Angri 3-0, Virtus Francavilla Matera 1-2, 3-0. La vittoria del Martina sull'Ugento e poi Brindisi che batte la Nocerina 2-1. Questa è la classifica con il Casarano che va in testa, 30 punti, torna in testa questa volta solitaria. Inseguono 28 punti Fidelisandria e Virtus Francavilla. Nocerina 27, Martina 25, 24 per il Matera, Palmese 23, Nardò 22, 20 punti per il Gravina. A 18 troviamo Ischia e Realacerrana. Fasano e Angri a 13, 12 per Lugento. Francavilla Insigni 11 punti, 9 per Costa Damalfi e Manfredonia. Chiude la classifica, Brindisi fanalino di coda con meno due punti. È il momento di scendere in campo e ascoltare le voci dei protagonisti. Andiamo. Finisce in goleada per la Fidelis che vince a Matera contro un Gravina in giornata no e senza il suo tecnico. Luca Tiozzo in panchina per squalifica, ma la squadra ospite ha nel trio offensivo una marcia in più assieme alla solidità del centrocampio e alla buona tenuta della difesa che nelle ultime nove giornate ha subito solo tre gol. Ma andiamo con ordine, Scaringella torna alla difesa a tre con Maddaloni al fianco di Ferrara e Bonnini. In avanti il trio composto, la da Silva atteso ex assieme a Cragole e Fantacci. Dall'altro lato a Toma in sostituzione di Tiozzo si affida al 4-2-3-1 con l'inserimento dal primo minuto di González al fianco di Cavaliere e Banzi alle spalle di Stauciuk. Ed è proprio il tandem Cavaliere-Stauciuk dopo neanche 30 secondi a mettere scompiglio nella difesa ospite seguita a Matera da oltre 500 tifosi con Esposito però a bloccare tutto. Bene il Gravina in avvio con il calcio di punizione di Cavaliere sul fondo non di molto. Poi però alla prima vera occasione la Fidelis passa, errore in uscita dei padroni di casa e Cragole conquista palle e scarica un sinistro potente dal vertice alto, sinistro nulla da fare per Zanin. E sesto gol in campionato per il trequartista tedesco che diventerà ancora più decisivo poi nel corso del match. Ancora Fidelis che costruisce ben due occasioni con da Silva nell'arco di pochi secondi. Attorno al ventesimo ne viene fuori in calcio d'angolo il Gravina ma sugli sviluppi e cancelli ad avere la palla buona per il raddoppio attenta alla difesa di casa. La reazione Gravina arriva con il tiro cross di Napolano, palla alta di poco e poi con il tiro dalla lunghissima distanza di Bosniak sul fondo. Ancora attento Esposito invece su Banzek si ritrova il pallone a pochi passi dall'estremo difensore ospite. Palla in angolo ma Cragole e compagni tornano a macinare gioco ed il finale è di Marc Andriese. Imputato entra in area da sinistra, tiro che finisce largo di poco. Ci prova anche González dall'altro lato, palla che non trova però la porta. Poi Tegola per Scaringella che perde il classe 2006 Rotondi per infortunio al suo posto in campo De Luca. Ma nel recupero ecco il raddoppio. È capabile all'azione di Fantacci che va a recuperarsi un pallone su Bosniak. Palla, arretrata ed da Silva e al posto giusto per battere Zanin e mettere il sigillo sulla sfida da ex. Sesto gol in campionato per lui. 2-0 alla fine del primo tempo ma ripresa che si apre subito con il gol che accorcia le distanze del Gravina. Il calcio di punizione da destra di Cavaliere. Sposito interviene come può con la complicità del palo. Sfera sui piedi di Banzek nel quale dell'area di rigore segna il suo terzo gol stagionale e riapre il match. Ma la spinta di casa dura davvero pochi minuti perché la Fidelis rimette subito radice e testa nella metà campo di casa. Ci prova subito Cragole direttamente su calcio di punizione palla alta. Poi il tocco di Fino di da Silva impegnare Zanin in corner. Un po' di elettricità sul terreno di gioco ma al diciottesimo arriva il Triss Andriese. Lunga azione nell'area di rigore della Fidelis con Fantacic e suo assist di Kragol batte Zanin. Terzo gol per lui e prestazione che sale ancora di tono per il fantasista Andriese. Sempre più centrale nel gioco Andriese. Ci prova subito Banzek a riaprire nuovamente il match ma il suo tiro tutto solo. Viene intercettato in uscita ancora da Esposito. Ancora duello tra i due vinto nuovamente dal portiere classe 2005 qualche minuto dopo che salva tutto sul tocco ravvicinato ancora dell'esterno con doppia nazionalità italiana del Burkina Faso. Iniziano i cambi ma è risolo a fare le prove generali del poker Andriese che arriva all'alba della mezz'ora quando Kragol inventa una traiettoria millimetrica per la corrente Fantacci che da quella posizione non può far altro che rendere trionfale il suo pomeriggio a Matera. Escono Kragol e Da Silva tra gli applausi del pubblico Andriese ma è sempre Esposito a salvare tutto in uscita sul lanciato Banzek. Sempre l'esterno numero 7 serve in aria Santoro. Altro nuovo ingresso, palla alta negli ultimi minuti di gare ancora Banzek a cogliere la traversa con un sinistro a giro che supera questa volta Esposito ma non il montante. E poi l'1-2 che rende pesante il passivo finale in pieno recupero. Felleka recupera, palla sulla sinistra entra in aria e batte in uscita Zanin. Poi ci pensa De Rosa a mettere il sigilo finale al cinquantesimo sfruttando l'errore della difesa di casa per entrambi. Il primo gol con la maglia bianca-azzurra. Il Gravina ora deve subito cancellare questa sfida pensando al prossimo turno importante in casa contro il Costa D'Amalfi. Di contro, la Fidelis attende la nuova capolista del girone, cioè il Casarano, per una sfida ad altissima quota allo Stadio degli Olivi dopo una lunghissima rincorsa durata nove gare. Il risultato è molto rotondo ma la partita è stata combattuta a lungo perché il Gravina ha confermato di essere una squadra ben attrezzata. Esatto, hai detto benissimo. La partita è stata molto combattuta, anche a fine primo tempo eravamo andati in doppio vantaggio. Il Gravina sono stati bravi a riprenderla subito all'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo anche, tra virgolette, un po' sofferto la reazione del Gravina, però è chiaro che alla nostra squadra quando rilascia un po' di campo hanno una grande qualità e poi ti possono inventare la giocata in qualsiasi momento. Ma al di là di questi episodi, io penso che nell'arco dei 90 minuti l'Andrea abbia meritato la vittoria perché ha creato parecchie occasioni da gol. Ha saputo soffrire il momento giusto, ha saputo anche essere aggressiva perché sapevamo che il Gravina avesse un ottimo palleggio e quindi alla fine credo che la vittoria dell'Andrea sia meritata. Una Fidelis che dà la sensazione tutte le volte che si porta in avanti con quel tridente offensivo di poter fare sempre male. Esatto, è chiaro. Io credo che ogni allenatore deve essere in grado di saper sfruttare le caratteristiche migliori dei propri giocatori. Io ho la fortuna, ripeto, di avere degli ottimi giocatori anche lì davanti e quindi riuscire a sfruttare le loro qualità è la mia priorità. Loro poi sono bravi a confermare questa loro qualità e quindi insomma il lavoro diventa più semplice. Un gol che vale la vetta della classifica lo firma l'ottantottesimo Leonardo Perez per il Casarano ribadendo in rete una prima straordinaria rispinta del portiere Prisco su Guastamacchia. Alcapozza e Rossazzurri vincono 1-0 sul Francavilla in Sini e si mettono al comando solitario del Gironi H. Partita complicata per la squadra di La Terza al cospetto dei sinnici di Nole ben messi in campo e brave ad annullare ogni tentativo dei padroni di casa. Primo tempo che stenta di emozioni al quindicesimo in contropiede lo Iodice conclude calciando tiro deviato in corner. Al diciottesimo Cagliazzo col destro manda alto. Al ventiduesimo D'Alena ci prova da lontano Prisco para senza troppi rischi. Alla mezz'ora si vede Saraniti di testa, disturbato, pallone sul fondo. Il Francavilla in Sini si fa vedere per la prima volta al 39esimo conclusione di Gentile Fernandes con un brivido para in due tempi. Al 41esimo c'è una chance più nitida per De Marco, tiro che finisce tra i guantoni del portiere brasiliano. Al 42esimo lo Iodice in rovesciata cerca qualcosa di impossibile, pallone sulla parte alta della porta. Al 45esimo corner Casarano Cagliazzo di testa non trova lo specchio. 0-0 all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa hanno una grossa chance. Al 65esimo un rigore in movimento per Cerutti. Prisco indovina il lato e salva la sua porta. Al 72esimo la punizione di Lo Iodice termina a centimetri dallo specchio. Casarano che insiste, Francavilla in difficoltà. All'81esimo D'Alena Valcross o Puola di testa manda alto da ottima posizione. Il gol però è nell'aria e arriva a pochi secondi dal novantesimo. Prisco fenomenale sul colpo di testa di Guastamacchia ma nulla può sulla ribattuta sotto rete di Perez. 1-0 e Capozza in festa. I Lucani provano a reagire ma al 92esimo il colpo di testa di Romano su cross di Nicolau termina al lato. Frippice Fischio e Casarano che torna al comando della classifica, questa volta in solitudine. Ora gli occhi sono puntati. Su domenica prossima al Degli Olivi di Andrea si gioca Fidelis-Casarano. Squadre divise da soli due punti. Francavilla in sinni che ospiterà il Martina. Forse chi analizza le partite dall'esterno pensa che queste sono partite facili ed è già l'ennesima volta che ci confrontiamo su questo. Questa è una squadra che è il Francavilla che fuori casa ha fatto sei partite prima della nostra, cinque pareggi, una sconfitta e un solo gol subito. Ora dire qualcosa. E guardandoli oggi dice tanto. Una squadra compatta, una squadra ben messa in campo. Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni per poterla sbloccare meno rispetto alle altre gare. Forse abbiamo costruito meno rispetto alle altre gare ma penso che la partita l'abbiamo fatta. E se adesso ci stiamo soffermando solo e esclusivamente, sempre e solo, sull'approccio, questa è forse la voglia di voler dare negatività al grande lavoro che stiamo facendo. E il Martino alla squadra del momento. I ragazzi di Pizzulli continuano a entusiasmare, soprattutto a dare una certa sostanza alla classifica. Dopo l'iniziale fase di rodaggio, ora i biancazzuri suona una sentenza. 3-0 all'Ugento, sesta vittoria consecutiva. L'ottava, Coppa compresa, a dir poco superlativa con le corazzate. Non bisogna sottovalutare le cosiddette piccole. Miglior formazione possibile per Pizzulli. Nel 4-2-3-1 c'è Lupo in fascia, Piarulli-Zenelai in mezzo al campo. Quartetto offensivo con i soliti noti. Sta facendo buone cose anche l'Ugento di Mimmo Liva. Serve fare decisamente di più in trasferta, dove è arrivato un solo punto. Dopo la firma in settimana, subito dal primo minuto amabile, Ancon e Sanchez chiudono il 3-5-2. Prima vibrazione al 14esimo. Zenelai pesca la testa di Piarulli. Lo stacco del centrocampista. Si spegne sul fondo. Si difende bene l'Ugento, ma al primo varco concesso. Il Martino è letale. Silvestro vede spazio al centro. A Fionda arriva Piarulli, che questa volta non sbaglia. È 1-0 dopo 29 minuti. L'Ugento, propositivo attacca. Il Martino si dimostra letale anche in ripartenza. Mastrovito esce con eleganza. Resuf, micidiale in campo aperto, supera Di Donato e fa 2-0. Gara sostanzialmente chiusa, già al duplice fischio. Martina, concentrato anche nella dipresa. Mastrovito impegna Di Donato col tiro a giro. Resuf, incerto, calcia sull'esterno della rete. 61esimo. Navarro ispira Lugento. Ancora stacca, colpendo la traversa. È un campanello d'allarme per il Martina, alimentato da un ulteriore episodio. Gianos entra in maniera scomposta su Ancora, beccandosi il rosso diretto a mezz'ora dal termine. Pizzulli tampona con Perrini per Silvestro. Ugento, attrazione anteriore. Vieira si esibisce in una bella rovesciata. Palla, di poco alta. Si compattono bene i 10 di casa. Difesa e palla Resuf per creare superiorità numerica. Al 74esimo, il martiricano strappa a destra. Rasotera per la Monica, che ringrazia e fa 3-0. Successo, che proietta la squadra di Pizzulli in zona playoff a 25 punti. A 5 lunghezze dal Casarano Primo. In settimana, il Martina, unica pugliese ancora in gioco, affronterà in trasferta la forte Scafatese negli ottavi di Coppa. Domenica, a Francavilla e Insigni, per provare a sfruttare i due scontri diretti al vertice. Lugento resta 14esimo con 12 punti. Domenica prossima, in chiave salvezza. Importante match interno con rinvigorito Fasano. E' una gara che tenevo, perché poi sai, con le piccole non è mai facile, ma d'altronde lo dimostrano sempre i risultati. Non è mai facile veramente scardinare queste difese. E' evidente che c'è una crescita anche dal punto di vista della lucidità. Abbiamo provato da sinistra, da destra con i cross. Abbiamo interscambiato gli uomini d'attacco. Abbiamo provato con inserimenti. Abbiamo fatto gol con l'inserimento di una mezzala. E' chiaro che avere tante alternative di gioco ci permette di sfruttare la profondità di Resuf. L'inserimento, in quel caso, di Piarulli, mi sembra, nella serie del gol. Il match, onestamente, ha avuto tante situazioni nel primo tempo dove si poteva segnare. La squadra è giovane, non voglio cali di tensione, non voglio... dobbiamo assolutamente continuare su questa strada perché è una strada che questo gruppo può perseguire e sicuramente in questa categoria creerà dei problemi a tutti. Un mese dopo torna a piazzare il colpo da tre punti il Nardò. Lo fa, nel modo più rocambolesco possibile, su uno dei campi più difficili del campionato. Il 9 contro 10 per le espulsioni di Mugnoz e Montagna I Neretini sfoggiano un cuore enorme, esultando in pieno recupero con l'acuto di Correnti. La partita, 3-5-2 per De Sanso, che opta per un attacco più mobile, con Dan e Gatto relegando la fisicità di Maletic in panchina. Mugnoz, esterno incaricato nel dare spinta. Nel 4-3-3 offensivo della Palmese, Grimaldi, costretto a rinunciare a Volpe. La scelta sul sostituto ricade su Figliolia. Orefice e Sant'Arpie sui lati. Ceparano, imprescindibile in mediana. Il Nardò conosce i punti di forza degli avversari. Una minaccia costante risponde al nome di Sant'Arpia. Destro incrociato, De Luca in chioda. Il duello è riproposto poco più tardi. Sant'Arpia su punizione, De Luca difende bene il proprio palo. Il Nardò fatica a contenere l'abilità nel gioco aereo di Figliolia. Il 90 prende il tempo da corner, ma non la porta. Idem quando sguscia la marcatura di Calderoni. L'ex bitonto è pericolosissimo sul finale di tempo. In dietreggio e stacca, De Luca a mano aperta dà lavoro anche i fotografi. Elettricità massima in avvio di secondo tempo. Mirante sgambetta del vino contro i tabelloni pubblicitari. Munoz lo spintone in difesa del compagno. Parapiglia e Rosso per entrambi. Alla partita cominciano a saltare definitivamente i nervi. Orefice su punizione. De Luca respinge con i pugni. Sul prosieguo il mio entrato coglie. Sfiore il vantaggio con il rasoterra. Attacca fortissimo la palmese. Orefice nello stretto evita Fornasier. Super Calderoni. Gli ostruisce il tiro a tre metri da De Luca. La situazione prende una brutta piega per il Nardò. Montagna già monito. Non temporeggia. Franando su un avversario e finendo tritto negli spogliatoi. Nardò in 9 contro 10 e in costante affanno. Ceparano con la sventola da fuori mette paura a De Luca. Il portiere 2005 è poi bravissimo nel distendersi sull'insidiosa battuta di Sant'Arpia. Il veleno sta nella coda. Al 93esimo Danna guida la dipartenza. Correnti gli soggerisce la verticale e fa 0-1. Incredibile guizzo del Nardò che capitalizza di fatti la prima occasione della partita. Massima sofferenza ma massima resa. Il Nardò compie un autentico colpaccio salendo a 22 punti. Ora serve rimboccarsi le maniche e far punti anche in casa per dare un senso alla stagione. Troppo pochi i 5 punti raccolti al Giovanni Paolo II. Occasione nel prossimo turno contro il Brindisi ultimo. Oggi grande dimostrazione, grande applicazione, grande orgoglio, grande sofferenza perché non è giusto dirlo però non abbiamo mollato mai anche in 10, anche in 9. Con qualcuno un po' acciaccato non abbiamo mollato. È vero loro giustamente ci hanno un po' costretto a stare indietro però ci siamo difesi bene e poi la ripartenza fantastica di Danna e Correnti ci hanno regalato questa grande vittoria. Alla fine è così, sono saltati tutti gli schemi. Danna, Maletic, Correnti in campo, in 9. Però ci ha premiato, ci ha premiato il nostro coraggio, ci ha premiato la nostra forza e il nostro orgoglio. Doccia gelata per il Manfredonia L'Arcoleo, la testa di Samba nel recupero, costa il primo stop del 5 bis e il nuovo passo indietro in classifica. Sipontini, più spigliati nel primo tempo in vantaggio con Giacobbe, troppo revissivi nella ripresa, fino al 2-1 finale. Nel Manfredonia, squalificato Montinaro, 5, disegna la formazione tipo con scaringi alla punta, Coppola e Giacobbe, a fare dall'accordo tra i reparti. Ha bisogno di punti, anche la Cerrana di San Nazaro, uscita con onore da Andrea, Laringe, pronta a illuminare, con lui in attacco, Giaie ed Elefante, primi scampoli di marca Granata, Esposito, si inserisce, Antonino, non trattiene, ma se la cava col corner. Testano entrambe le corsie ai campani, dopo una bella triangolazione mancina, ecco la rovesciata di Elefante, bella ma improduttiva, palla fuori. Al 22esimo, la più ghiotta a chance per la Cerrana, Elefante in corridoio per Laringe, il 10 evita l'uscita di Antonino, defilandosi troppo e calciando alto. Alla prima reale scorribando offensiva, è il Manfredonia a passare, De Luca disegna una tagliettoria perfetta, la testa di Giacobbe fa 1-0. Vantaggio a sorpresa dei Sipontini, con l'ormai bomber consolidato di questa stagione. Nella ripresa, i bianco celesti fanno più fatica a contenere la voglia di rivalza della Cerrana. Al 54esimo, Endiaia è a prendersi la scena, aggancia col destro alla palla lunga, il Mancino sul primo palo fa il resto, 1-1 e gran gesto tecnico del senegalese. La Cerrana più spregiudicata, Esposito, imprendibile tra le linee, conclusione forte, ma alta sulla testa di Antonino. La vince dalla panchina Sannazzaro. Al 93esimo, il mio entrato Samba sfrutta i suoi 194 centimetri per condannare il Manfredonia alla più atroce delle beffe, facendo esplodere di gioia l'impianto campano. Un vero peccato per come è arrivato a questa sconfitta. Il Manfredonia perde una buona occasione, ma ha tempo per recuperare. Domenica, al Miramare, arriva una palmese, anch'essa ferita nell'extra time, per la Cerrana, derby a Ischia. Diciamo che si è risolta nei minuti finali, immagino che forse con un po' più di attenzione avremmo potuto portare a casa qualcosa di diverso che la sconfitta. Secondo me ai punti forse il risultato più giusto era il pareggio, perché anche noi siamo riusciti ad arrivare un po' di volte pure a concludere, soprattutto nel secondo tempo, poi dopo alla fine i loro cambi hanno fatto la differenza. La partita è stata bella, combattuta e il primo round è andato alla Cerrana. Adesso dobbiamo noi rimboccarci le maniche, cercare di uscire da questa situazione, con il lavoro e con un po' di fortuna in più, perché anche domenica scorsa abbiamo pareggiato la partita a tre minuti della fine. Attenzione, fortuna in più. La gioia del Brindisi con il rigore trasformato da Raikovic nel finale, che vale tre punti pesanti, la delusione della Nocerina che non vince da quasi un mese, l'asso di tempo in cui ha raccolto solo un punto in quattro partite. Alfanuzzi e Pugliesi si impongono 2-1 contro i Molossi, tenendo a galla le speranze di rimonta nonostante i punti di penalizzazione. I ragazzi di Nicola Ragno nel primo tempo mettono la freccia, già al dodicesimo rimessa laterale e guizzo di Vazquez, che di testa sorprende la difesa avversaria e il portiere è 1-0. Al diciannovesimo la Nocerina si rende pericolosa su questa azione in cui Milan esce male, carambola fortunata per i padroni di casa, il portiere agguanta la sfera ma che rischio. Dopo pochi minuti ancora campani in avanti con Marquez, doppio tentativo, il secondo da terra, pallone sul fondo, insiste la squadra allenata da Raffaele Novelli con due chance tra il trentacinquesimo e il trentanovesimo. Prima la vole di Provenzano, Milan risponde, poi con Gerbaudo che dal limite si calce e gira, traversa sulla respinta a Marquez di testa, manca il possibile tapin. Ma la vera occasione per pareggiare i conti arriva nel finale di prima frazione con la Nocerina che ottiene un calcio di rigore. Dal dischetto Gerbaudo si fa ipnotizzare da Milan che sceglie il lato giusto, portando il Brindisi sempre avanti all'intervallo. Nella ripresa, partita bloccata nei primi minuti, Dellino cerca Gloria in aria molossa, conclusione debole, il match si accende solo all'ottantesimo con il colpo di testa in tuffo di Marquez su assist di Vono e 1-1, Brindisi che lamenta una spinta dell'attaccante rosso-nero, decisiva per farsi spazio. Un minuto dopo i ragazzi di Ragno reagiscono con il colpo di testa ravvicinato di Rajkovic, Vozichi risponde e nega il gol. All'ottantaquattresimo Basualdo ha una chance dalla distanza, conclusione parata in due tempi da Milan. All'ottantanovesimo poi l'episodio che decide la partita. Cirio entra in aria e conclude. Pallone sul braccio di Silvestri, il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri Rajkovic spiazza il portiere e porta il Brindisi sul 2-1, risultato che regge sino al triplice fischio. Brindisi ancora col segno meno in classifica, ci sono ancora due punti negativo da recuperare. Domenica prossima la squadra di Ragno farà visita al Nardò, Nucerina che proverà a ritrovare la vittoria nello scontro diretto in casa contro la Virtus Francavilla. E' la partita che dovevamo fare di sofferenza, tutti dietro venivano dalla palla, dovevamo far giocare loro e poi pressarli al momento giusto, cercando di non far giocare le loro attaccanti che sono bravi nel girarsi. Abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio e quando si passa in vantaggio sai poi le forze si triplicano e quindi abbiamo difeso con i denti il risultato. Rimane in rammarico che sul rigore, che ha parato, è stato bravo anche Milano a fare il rigore, diciamo che c'è stato un fallo forse su Fuster, non che Fuster ha fatto fallo sull'attaccante. Il pareggio, secondo me, poi chiaramente le immagini bisogna vederle, c'è stata la spinta, la furbizia di Ferrari di aver spinto il nostro scenario difensivo, si è trovato praticamente da solo di testa e ha fatto gol. E poi quel rigore netto che alla fine ci ha consentito di vincere questa gara, è una gara difficilissima, ma come ho sempre detto, quando metti la volontà, la voglia, la testa di voler raddoppiare, soffrire, di aiutare l'amico, di correre su tutti i palloni, in tutte le zone del campo, concedere pochi spazi a squadra versare, i risultati poi sono questi. Arriva la quattordicesima giornata, la prima vittoria interna del Fasano, al termine di una gara dominata in lungo e in largo, con Langri incapace di impensierire gli indemoniati biancazzurri, rinfrancati dalla cura a Govino. Sugli scudi, uno scatenato battista, autore di una doppietta. L'allenatore biancazzurro deve fare a meno dello squalificato Bolzicco e dell'infortunato ballatore, sostituito da Lupoli. Il neotecnico angrese Di Nola si schiera con un 4-3-3 che ha in Messina il suo terminale offensivo. La partita vede subito un Fasano aggressivo, al quarto un traversone di Corvino diretto verso la porta, viene smanacciato da Viscovo. Al decimo calcio di rigore per i padroni di casa, De Carro mette giù Corvino, che però si fa parare il tiro dagli 11 metri da uno strepitoso Viscovo che indovina l'angolo. Al tredicesimo azione sulla fascia sinistra di Corvino che imbuca per Lupoli, il quale sceglie la soluzione di prima, calciando sull'esterno della rete. Al diciannovesimo Lupoli vince una serie di rimpalli in aria, la sfera finisce sul destro di Lo Sabio, che calcia senza pensarci due volte, ma la conclusione centrale para l'estremo difensore dell'Agri. Al venticinquesimo, su rimessa laterale di Corvino, onraita di testa, impegna Viscovo. Al ventisettesimo, incursione di Lo Sabio, che mette un pallone teso nell'area piccola, su cui non ci arriva per un soffio ganci. Al trentaquattresimo, arriva il meritato vantaggio dei Biancazzurri. Lancio perfetto di Orlando per Battista, che entra in aria e infila nell'angolino Viscovo per l'uno a zero. È un fasano scatenato, che raddoppia al trentanovesimo, con un perfetto contropiede partito dai piedi di Lo Sabio. Tocco su ganci, che lancia nello spazio Corvino. Il numero dieci fasanese, serve su un vassoio d'argento la sfera Battista per il due a zero. Con questo risultato, e tra gli applausi del curlo, ai ragazzi di Agovino, si va negli spogliatoi per il riposo. La ripresa si apre con il fasano di nuovo, vicino al gol. Al secondo, Lo Sabio raccoglie un lancio di Urchisa, si sistema il pallone, lascia partire un destro che esce di un soffio, alla destra di Viscovo. Sempre padroni di casa, rendersi pericolosi al diciassettesimo, con Corvino, che calcia a giro dal vertice sinistro, sfiorando il palo. Ma è solo questione di tempo, perché il tris arriva al ventesimo. Pensa, anticipa un avversario a centrocampo, servendo in modo perfetto Lo Sabio, che davanti a Viscovo non sbaglia. Al venticinquesimo, discesa di Mauriello sulla destra, a trovare Lo Sabio nell'area piccola, con la conclusione che viene parata, sempre da Viscovo. A dimostrazione di come sia stata netta la superiorità del fasano, il primo tiro nello specchio dell'Angri arriva al trentacinquesimo della ripresa, punizione di Puca, direttamente tra le braccia di Lombardo. Al trentanovesimo, ingenuità dell'estremo difensore fasanese, che atterra Gaeta fuori aria da ultimo uomo. Cartellino rosso per Lombardo e tra i pali va il giovanissimo Semerano. La conseguente punizione di Puca finisce alta sulla traversa. È l'ultimo sussulto della gara con il pubblico fasanese, che può festeggiare tre punti importantissimi. Domenica, trasferta a Dugento per il fasano, mentre l'Angri ospiterà il Matera. Abbiamo visto una squadra lottare come anno c'era. Abbiamo triplicato, raddoppiato le marcature quando c'era da soffrire, abbiamo sofferto quando c'era da giocare. Credo che la squadra l'abbia fatto veramente in modo egregio. Ho dei ragazzi straordinari che sono gli artifici di tutto questo. Volevo anche ringraziare il pubblico che oggi si ha spinto. Mi fa piacere questa coesione, questa unità di intenti. L'ho detto quando mi hanno voluto in ultimo sotto la curva. Ho detto tutti insieme ci teneremo fuori dai casini. Sto vedendo delle gran belle cose che mi fanno sperare. Ben ritrovati. Seconda parte di Risultati e classifiche. Una produzione Telesveva News24.it Aveva ancora tanti gol da vedere dopo quelli del girone H di Serie D. Ora è la volta del girone C di Serie C. Vediamo i risultati dell'ultima giornata in corso di svolgimento. Cominciata già sabato. Team Altamura, Trapani 2-1. Benevento, Cegnola 1-1. Stesso risultato tra Foggia e Crotone. Latina, Vicerno 2-0. Catania, Cavese 1-1. Nella domenica si sono giocate Casertana, Potenza 0-0. Juventus, Next Gen, Taranto 2-1. E poi Messina che vince sul campo della Turris per 2-1. Mancano l'appello gli ultimi due incontri. I posticipi del lunedì alle 20.30 giocheranno Monopoli contro Avellino e Sorrento contro Giuliano. Classifica dunque parziale con il Benevento in testa. 34 punti. Cegnola a 30. 28 Monopoli. 26 per Crotone e Potenza. Monopoli che deve ancora giocare. Poi Picerno, Catania e Avellino. 25, 24 per Giuliano, Sorrento e Trapani. Anche qui tanti asterischi. Via via tutte le altre. Chiude il Taranto con tre punti in questa classifica. Scendiamo in campo. Ancora gol da vedere insieme. Un cerignola enorme. Non vince ma esce indene dal Ciro Vigorito. Strappa in rimonta un pari di valore sul campo della capolista. Mai sconfitta sin qui in casa. Finisce 1-1 la super sfida tra le prime due della classifica. Finisce 1-1 a Benevento davanti ad una notevolissima cornice di pubblico. Circa mille i sostenitori presenti nel settore ospiti. Gli ofantini restano così a meno 4 dalla betta del giorno C di Serie C ma blindano la piazza d'onore in gradatoria almeno sino al posticipo del Mediterraneo. Monopoli ed Avellino. Il testa a testa tra le prime due della classe non tradisce minimamente le attese della vigilia. Ospiti con Salvemini e Yalou in avanti nel solito 3-5-2 di Giuseppe Raffaele. Emergenza in difesa. Capomaggio fa il play arretrato. Martinelli out nel riscaldamento. Ligi titolare con Vicentini a completare il pacchetto difensivo. Coccia e Russo agiscono sulle corsie. Tascone Bianchini e Paolucci compongono il trio in mezzo al campo. Benevento invece con Manconi principale terminale offensivo. Inizio di massiccia personalità per i pugliesi. Nunziante respinge la volemancina di Yalou poi il giovane portiere 2007 si oppone in maniera sontuosa anche a Paolucci e Salvemini. La replica dei Saniti arriva su punizione prima del quarto d'ora. Manconi calcia con il destro. Saracco risponde presente. Poi tocca ancora a Nunziante andare in presa plastica sulla conclusione della distanza di Tascone. Gara mai noiosa. Occasionissima. Benevento a metà frazione. Manconi servito in aria riesce a deludere l'intervento di Saracco ma poi deve fare i conti con il prodigioso recupero di Ligi. È un cerignola a testa alta e petto in fuori. Yalou servito da Paolucci si fa anticipare da Ferrara che rischia grosso nella circostanza. Il Pà salva il Benevento. Finale di frazione. Rosso ci prova dalla distanza palla sul fondo. 0-0 all'intervallo. Ripresa che si apre con Tentardini al posto di coccia tra gli ospiti e soprattutto con il vantaggio della capolista. A Campora batte il corner. Vicentino sfortunatissimo fa centro nella porta sbagliata. 1-0. Colpo duro da digerire per gli ospiti. Tutt'altro perché poco dopo l'ora di gioco la pareggia. Yalou con il quinto centro personale in questo campionato raccoglie la sbanacciata di Nunziante e fa gol con il destro. 1-1 di nuovo. Equilibrio al Ciro Vigorito. Succede poco o nulla nell'ultimo quarto di partita. Fazio per le proteste dei padroni di casa per questo flipper in area avversaria. Il direttore di gara lascia proseguire. Finisce 1-1 dunque tra prima e seconda. Il Cerignola raggiunge quota 30 punti in classifica sempre 4 e meno del Benevento. E venerdì tornerà a giocare in casa al Monterisi per l'anticipo della diciottesima giornata. Arriva un team Altamura decisamente in palla. Abbiamo giocato tutti i 91 di per i tre punti e è normale che poi abbiamo perso un po' di lucidità nel secondo tempo perché la partita è stata da parte nostra in altri ritmi. Siamo stati secondo me molto più pericolosi nel primo tempo del Benevento e nel secondo tempo abbiamo avuto anche la nostra occasione perché in un'anima di ricorda avversaria 3-4 volte abbiamo accelerato il tiro quando volevamo gestire meglio diverse situazioni. Complessivamente sono molto soddisfatto nella partita e credo che appunto da questo punto di vista la prestazione è assolutamente meritato e abbiamo creato le condizioni per vincere la partita senza punto. Credo che abbiamo fatto veramente una bella partita da tutti i punti di vista e questo ci lascia assoluta fiducia per il percorso che vogliamo fare da qui fino al termine del campionato. Il primo gol di Simone, Altamurano Doctre, professionista e con la maglia della sua città, il primo gol di uno degli uomini faro di questa squadra, il capitano Rolando. Sono loro a regalare assieme ai guantoni di viola un pomeriggio da sogno per la team Altamura che batte al San Nicola di Bari il Trapani, grande firme a lungo importante in classifica sulla strada che porta alla salvezza dopo il passaggio del turno in settimana in Coppa Italia di categoria e la certezza che probabilmente questa possa essere anche l'ultima gara lontano dal Tonino D'Angelo. Un pomeriggio perfetto vissuto da Di Donato che deve rissegnare la sua squadra con il 4-2-3-1 anche a causa dell'assenza di Lionetti in avanti sostituito proprio da Simone. Di Gaccia, entro campo formata da Franco e Dipinto dall'altro lato Aronica cerca invece risposte positive in campionato dopo la Coppa con un 3-5-1-1 e la scelta di Bifulco alle spalle di Lescano. Avvio per il Trapani che dopo 4 minuti sfiora il gol con Bifulco che di testa tutto solo svetta sul cross di Martina palla sul fondo ancora ospiti in profondità attento in uscita bassa Viola su Bifulco lanciato a rete primo quarto d'ora per i siciliani che arrivano al tiro cross con Ciotti e Silletti sfiora l'autogol finita però la spinta iniziale l'altamura reagire a sfiorare il vantaggio con la bella incursione di Rolando palla sull'esterno della rete sono le prove generali del gol che arriva poco oltre la mezz'ora dopo una fase di pressione dei padroni di casa azione prolungata cross in area di dipinto e palla che finisce sui piedi di Simone bravo a battere Seculin in uscita primo gol tra i professionisti e prima rete con la maglia della sua città per il classe 2004 subisce il colpo il Trapani mentre sale ancora di turno la squadra di Didonato che sfiora il Bisco l'azione a destra di dipinto e il tiro finale che Seculin devia come può Silletti ci prova con la testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ancora decisivo Seculin che tiene a galla i suoi l'azione prosegue è grande la mette alta da buona posizione sotto una pioggia battente si riparte nella ripresa con il Trapani in avanti il tocco ravvicinato del neo entrato fa il bloccato distinto da Viola la replica dei padroni di casa con il tiro di grande alto altro a fondo Altamura sempre dal lato di grande questa volta è raddoppio il pallone finisce infatti sui piedi di Rolando che si gira bene e batte Seculin con una sorta di rigore in movimento primo gol anche per il trequartista con la maglia dell'Altamura ma neanche il tempo di metterla a palla a centro campo il Trapani la riapre l'Escano arriva al tiro da destra palla deviata da Viola e Falle è bravo a farsi trovare pronto per segnare il gol del definitivo 2-1 ma è sempre Rolando in giornata deluxe a sfiorare il tris con una conclusione mancina che batte Seculin ma si stampa sul palo la squadra di Aronica si proietta alla ricerca del pari il cross del neo entrato Canutè trova Spini dall'altro lato ma De Santi salva tutto a pochi passi dalla porta sempre Canutè ad ispirare a destra questa volta palla arretrata e tiro secco di Cialiento che Viola devia in corner si difende la team Altamura dagli attacchi del Trapani e vittoria meritata per i padroni di casa che venerdì prossimo saranno di scena a Cerignola per un derby di prestigio al Monterisi Se abbiamo mirato la vittoria è solo grazie ai miei ragazzi che hanno limitato le qualità di questo Trapani che è una squadra importante basta ricordare che il Trapani sta facendo 4 gol a tutte le squadre quindi oggi ha faticato anzi oggi potremmo essere più rotondo il risultato specialmente il primo tempo poi il secondo tempo siamo andati in sofferenza però abbiamo tenuto Botta e alla fine è stata ampiamente meritata però il Trapani è una grande squadra una squadra di categoria forse tra le più forti del girone ma l'Altamura ha meritato e ha limitato questi stessi giochettori quindi i complimenti vanno tutti ai miei ragazzi Botta e risposta tra Foggia e Crotone che si dividono la posta in palio e allungano la serie positiva sale a 4 quella della squadra di Zauri a 9 quella di Longo che interrompe però la scia di Vittorie Murano illude lo Zaccheria la protezza di Ovisac tre minuti dopo riporta il Foggia con i piedi per terra le scelte Zauri cambia a centrocampo con pazienza Cettascone preferito all'acciaccato da Riva mentre Gargiulo vince il ballottaggio con Mazzocco per il resto stessi uomini di Torre del Greco Longo invece pilota i suoi nel segno di un arrembante 4-2-3-1 con Gomez supportato da Ovisac Tuminello e Jonathan Silva il Foggia impiega 16 minuti per trovare la via della rete il solito ispirato Milligo disegna una deliziosa traiettoria sulla testa di Murano che batte d'alterio e torna a riassaporare la gioia della rete dopo oltre un mese di digiuno il vantaggio del Foggia dura però il tempo necessario allo speaker per annunciare il marcatore perché al diciannovesimo Ovisac si libera di Salines e con una conclusione a giro spedisce alle spalle di Perina 1-1 è tutto da rifare si viaggia al piccolo trotto nella prima frazione dove con la parte le emozioni scarseggiano in avvio di ripresa Zauri da fisicità la mediana inserendo Mazzocco per pazienza l'occasione ce l'hanno però i calabresi Tuminello calcia alto il Foggia torna a farsi pericoloso al cinquantaquattresimo con Milligo il 10 rosso nero da fuori lascia partire una bordata pallone di un soffio al lato rapidi capovolgimenti di fronte e alla conclusione al minuto 59 va ancora Tuminello che dai 25 metri calcia sul fondo l'occasione migliore per riportarsi in vantaggio il Foggia la costruisce al sessantesimo Tascone scambia con Murano il centravanti tutto solo davanti al portiere si fa respingere la conclusione la girandola dei cambi sveglia il Crotone e abbassa un Foggia in debito d'ossigeno a quel punto il Crotone ci prova al settantesimo Perina sbanaccia su Gomez Barberis lo grazia sulla respinta divorandosi il gol dell'1-2 poco dopo ancora Crotone sul cross di spina Gomez di testa impegna Perina che si distende e mette in angolo passa appena un minuto e alla conclusione va Jonathan Silva che ci prova dal limite palla alta sulla traversa il Foggia torna a rendersi minaccioso al settantacinquesimo e Mausso che ha preso il posto di Murano ed agisce da centravanti calcia da posizione defilata senza però trovare la porta poi brividi finali per i rossoneri all'ottantatresimo tiro a giro di spina Perina salva in angolo e un minuto più tardi il cross di Jonathan Silva incrocia la deviazione di Parodi ed è deviato in angolo mettendo altra apprezzione a Perina e l'ultimo sussulto prima del triplice fischio finale che arriva dopo cinque minuti di recupero per il Foggia prossimo impegno sabato a Messina per il Crotone il giorno dopo c'è la Casertana all'uscita abbiamo sempre detto da quando sono arrivato che se le cose fossero andate bene non cambiava l'allenatore quindi sicuramente la squadra quando sono arrivato aveva delle difficoltà oggettive nessuno è stato mai così presuntuoso da dire che le cose potessero migliorare in pochissimo tempo io sono contento e orgoglioso di questi ragazzi perché come ha detto non c'è un allenamento una partita che non lascia tutto quello che hanno sul campo è chiaro che c'è da migliorare la proposta tecnica purtroppo le stagioni quando parto in un certo modo quando parti con un obiettivo poi ti ritrovi a giocare un altro si fa fatica secondo me anche a ribaltare un po' l'idea di questa cosa siamo qui apposta c'è bisogno di tempo il tempo del calcio non ce l'ha nessuno però sono consapevole che questa squadra ha tanto per poter migliorare è chiaro devo essere bravo io con il mio staff a tirare fuori in meglio da questi ragazzi che in questo momento fanno fatica a fare qualcosa di meglio ma ripeto con questo atteggiamento si può lavorare sicuramente una vera e propria ammazzata alle speranze del Taranto di raggiungere la salvezza si complica maledettamente la strada per i Rosso Blu che perdono 2-1 contro la Juventus Next Gen non trascendentare la formazione di Brambilla quella di Cazzarò esce soltanto nell'ultimo quarto d'ora di partita decimo minuto la Juventus passa in vantaggio c'è un'azione in velocità di Kudrik sulla destra palone in mezzo per Semedo di prima intenzione del Favre è battuto 1-0 bianconeri giovanili che partano meglio quattordicesimo Kudrik se ne va indisturbato sulla destra in mezzo per Guerra angola troppo e va vicino la Juventus Next Gen al 2-0 il Taranto si va a vedere per la prima volta dopo 15 minuti Mastro Monaco sulla destra in aria per Zigoni destro di prima intenzione altissimo 28esimo Mastro Monaco Zigoni non si intende con Giovinco sprecata l'occasione per il Taranto Giovinco sarà uno dei peggiori in campo Juventus vicino al raddoppio anche al 30esimo minuto con una giata di Macca in aria fuori di pochissimo 35esimo tanto ci prova il numero 5 bianconero che riesce indisturbato a risolvere una mischia 2-0 primo tempo che si conclude quindi 2-0 per la Juventus Next Gen nella ripresa 68esimo punizione di Mulazzi del Fabro riesce a opporsi minuto 70 il Taranto comincia a produrre le prime vere azioni pericolose con un tiro dalla distanza di Matera a palo Fabro poi costringe la parata da Fara 78esimo calcio d'angolo per il Taranto Speranza riesce di testa ad accorciare le distanze 2-1 ma non ci sarà una vera e propria occasione per il Taranto per cercare il 2-2 niente accade nei 5 minuti di recupero adesso per il Taranto la strada per la salvezza è davvero complicatissima soffre ma non perde il potenza i Lucani ringraziano a lungo la Dea Bendata raccogliendo un comunque incoraggiante 0-0 in casa della Casertana i ragazzi di De Giorgio mantengono inalterato il loro status in zona playoff continuando a macinare punti lontano da casa le scelte De Giorgio rispetto all'ultima di campionato cambia una pedina a reparto Sciacca fa coppia con Berengia al centro e Radi si sistema a centrocampo Tauria torna a comporre con Caturano e Schimmenti il trio delle meraviglie è una sorta di pareggite cronica quella accusata dalla Casertana senza gatti Manuel Iori arretra Fabri in difesa la sorpresa e Saloma a destra Bakayoko la punta di riferimento nel 3-4-2-1 sono i campani a condurre le operazioni Bakayoko taglia bene il campo diagonale fuori non di molto c'è anche il potenza Dauria calcia Zanellati non rischia la presa rischia di combinarla a grossa il potenza al diciassettesimo inspiegabile contropiede preso da Lucani Alastra veste i pani del difensore con l'uscita praticamente a metà campo per l'estremo potentino compito invece più semplice sul tiro da fuori di Proia la ripresa si apre con un'altra leggerezza a metà campo del potenza nel varco si incunia il mio entrato capasso lo spazio c'è la mirano più reattivi falchetti altro break la porta la punta Salomà Alastra bravo nel non farsi ingannare dalla deviazione il dieci campano ci prova anche su punizione sfera abbondantemente alta la casertana il vantaggio lo accarezza sul serio all'ora di gioco capasso imprendibile tira una fucilata che c'entra il palo per la disperazione del pinto non è giornata per la casertana carretta su un'altra ripartenza passa tra due difensori temporeggia poi calcia dando una nuova ripulita ai leni della porta di Alastra il potenza sembra accontentarsi la casertana no Giuliano svetta mandando altro un'altra grande chance vince i punti la casertana ma è uno 0-0 che fa decisamente più contento il potenza i punti sono 26 con un rendimento esterno che continua a essere da prime della classe nel prossimo turno sabato alle 15 il collettivo di De Giorgio affronterà il Viviano in Latina per la casertana trasferta a Calabra a Crotune dopo quattro risultati utili consecutivi arriva uno stop inatteso per il Picerno che a Latina perde per 2-0 grazie ai gol di Indoi e di Renzo già nel primo tempo Tomi si affida al 4-2-3-1 con esposito punta più avanzata il trio energe Maiorino e Petito alle spalle dall'altro lato il 3-5-2 per Boscaglia con Bocic adesso in avanti partono subito forte però i padroni di casa che dopo praticamente un minuto trovano il tiro al volo di Indoi che per poco non inquadra la porta di Somma ma dopo 5 giri di lancetti arriva il vantaggio del Latina è rischiosa l'uscita palla al piede del Picerno Indoi è caparbio recupera palla con Bocic che gliela restituisce in profondità tocco sotto ad anticipare Somma in uscita primo gol stagionale per lui con la maglia del Latina e replica del Picerno che arriva dopo una decina di minuti con il cross di guerra e il tocco di testa alto di Energe ancora Indoi però protagonista con il recupero di palle la conclusione dal limite larga non di molto la gran giornata del calciatore albanese che fa ripartire i suoi con una palla in profondità per Bocic bravo a crossare in aria un pallone che ad essi tocca botta sicura ma è attento Somma distinto a deviare ma allo scadere arriva anche il raddoppio di casa questa volta è un lungo batti e ribatti piccola consentire a Direnzo di battere Somma con un tiro preciso dopo che la difesa ospite non era riuscita a completare il rinvio del pallone è una doccia fredda per il Picerno che anche nella ripresa concede subito un tiro pericoloso a Bocic palla sul fondo e poi prova a replicare ma solo dalla lunga distanza con un tiro di Maiorino che Zacchi blocca a terra in due tempi l'occasione più nitida per gli ospiti arriva a 20 minuti dal termine quando Energe da pochi passi si fa intercettare il tocco volante da Zacchi prima del tiro di De Ciancio intercettato in questo caso invece da Crecco ospiti ancora nel finale con Energe che calcia dal limite direttamente sul fondo sfiora il Trifsi Latina in ripartenza con il tiro piazzato di Riccardi che si accomoda di poco sul fondo e anche la parola fine sul match però il Picerno non ne ha più ed ora aspetta la sfida a Casalinga di domenica prossima contro la Turris momento importante per il Latina che ha conquistato 10 punti nelle ultime 8 gare quelle con Boscaglia in panchina penso che il succo sia lì perché noi abbiamo se uno guarda come sviluppo come gestione abbiamo fatto tutto bene però nel calcio c'è bisogno di quel aspetto che è appena detto e noi siamo arrivati un po' secondo me un po' scarichi sotto questo punto di vista non giustificabile perché noi veniamo da un buon periodo a livello tecnico tattico e ragazzi non posso dire nulla perché abbiamo fatto tutto lo che dobbiamo fare ma non c'è stata quella fame che c'è in certi momenti che per noi è uno step che dobbiamo fare perché dobbiamo capire che abbiamo le potenzialità per farlo e il rammarico è che fondamentalmente non abbiamo avuto quell'agonismo che occorre in tutte queste partite perché questo è un girone talmente equilibrato abbiamo gestito sempre noi la palla ma non abbiamo avuto quella quell'input per far oggettivamente male all'avversario prima di chiudere spazio consueto all'eccellenza tutti i risultati maturati in questa domenica eccola qua la diciassettesima giornata con Arboris Belli che perde in casa con il Manduria finisce 2 a 6 Atletico Racca le unione calcio Bicelli è 3 a 3 Brilla Campi Nuova Spinazzola 1 a 1 Corato Novoli termina 2 a 1 e poi Foggia Incedit che vince 3 a 0 a tavolino contro il Gallipoli assente in terra foggiana poi Massafra Canosa 2 a 1 Bicelli e Batte Ginosa 1 a 0 1 a 1 ben 3 1 a 1 maturati in questa domenica tra Galatina e Molfetta tra Polimnia e Bitonto e quello tra Barletta e Atletico Acquaviva proprio al 95esimo la classifica vede sempre in testa il Barletta con 45 punti Polimnia 33 Galatina 27 Gallipoli Canosa Manduria Unione Calcio Bicelli Atletico Acquaviva 26 punti Brilla Campi 25 così come Foggia Incedit Massafra 24 22 per Atletico Racca Calenovoli Bicelli 21 Corato 20 Nova Spinazzola 19 Bitonto 18 12 per il Molfetta chiudono Ginosa con 8 punti Arbori Sbelli con 3 punti ed ora scendiamo in campo ancora tanti gol da vedere insieme Si stoppa di fronte di un'acquaviva maidomo la sequenza ininterrotta di vittorie casalinghe del Barletta che perdurava da inizio stagione sbloccato il punteggio all'alba della ripresa con una prodezza di Lavopa i biancorossi vengono riacciuffati al 95esimo dalla formazione ospite artefice a sua volta di una prova gagliarda e a viso aperto per la capolista matura così il secondo segno X di fila dopo quello di Campi Salentina mentre restano 12 punti di vantaggio sul Polimnia nel Barletta spiccano due assenze per squalifica quelle di Strambelli e Montrone che si aggiungono ai lungodegenti Giambuzzi e Baio De Santis sostituto in panchina dello squalificato De Candia si affida in prima linea all'attanzio in coppia con Lopez mentre Bongermino il principale riferimento offensivo degli ospiti il primo spunto arriva al terzo con il tiro cross di Lavopa alzato oltre la traversa da Bozzi nuova accelerazione dei Biancorossi al quattordicesimo sull'asse rotondo Turitto con il destro a giro del Lander ad accarezzare il montante sulla sinistra di Bozzi acqua viva più intraprendente col trascorrere dei minuti così al primo vero affondo gli uomini di Leonino rischiano di spezzare l'equilibrio al diciottesimo con un contropiede innescato da Guglielmi proseguito da Novelli e mal rifinito da Bongermino che manca la correzione vincente quasi sulla linea quattro minuti più tardi Rosso Blu da capo insidiosi con l'elevazione in area di Tal sugli sviluppi del piazzato di Gernone non accade più nulla fino al trentaseiesimo allorché l'inzuccata di De Gaulle su azione d'angolo finisce non lontana dall'incrocio due minuti dopo traversone di Lavopa per il colpo di testa ravvicinato di Lopez che bacia la parte alta della traversa e termina sul fondo sul fronte opposto al quarantesimo Asselti tenta in vano il Jolly con uno shoot da distanza siderale al quarantatresimo la torsione di Bongermino dall'altezza del dischetto non c'entra il bersaglio graziando la distratta difesa barlettana nel primo minuto di recupero si assiste alla progressione sulla corsia sinistra di Rotondo con successivo assist per Lattanzio la cui stilettata e deviata distinto in corner da Bozzi vehementi quindi le proteste biancorosse nell'ultima azione utile prima della pausa per il contatto in aria tra di Fino e Lattanzio giudicato regolare dall'arbitro la ripresa è inaugurata dal vantaggio della capolista 50 secondi e Vito Lavopa si traveste da strambelli disegnando una perfida parabola col Mancino che scavalca Bozzi per l'urlo liberatorio del Puttilli al sedicesimo la soluzione di Turitto dalla distanza oltrepassa la traversa minuto 21 nuova iniziativa personale di Lavopa che prevale nel duello con Asselti e si produce in un rasoterra impreciso la prima inside dell'acquaviva nel secondo tempo arriva al trentunesimo con impiazzato dei venti metri di Lenoci disinnescato in corner da Massari poi al trentottesimo è Guglielmi a trovarsi tre piedi un invitante pallone ma la traiettoria del sette rosso-blu si spegne sull'esterno della rete la doccia fredda per il Barletta giunge al cinquantesimo acrobazia in aria di Guglielmi corretta di testa da Bongermino che insacca le spalle dell'incolpevole Massari i biancorossi potrebbero rimettere la freccia nell'ultima azione del match ma De Sagastizabal su cross dalla sinistra di Parisi in corna mandando clamorosamente a lato con Bozzi fuori causa domenica prossima per la capolista è in programma la trasferta di Gallipoli la cui disputa è tutta da verificare a seguito dell'odierno forfè a Foggia dei Salentini per gravi problematiche di carattere societario mentre l'acquaviva ospiterà il brillacampi al Gian Maria si ferma contro l'acquaviva il lungo filotto in interrotto di vittoria al Puttilli per il Barletta tanto rammarico specie per il modo in cui è maturato il pari degli ospiti sì c'è un po' di rammarico probabilmente la gestione della palla nei minuti di recupero doveva essere fatta in un altro modo purtroppo la troppa voglia di voler andare a fare il secondo gol ci ha giocato questo busto scherzo che gara è stata che prestazione è stata del Barletta affrontato un avversario che è venuto qui a giocarsela in ogni caso a viso aperto la loro senerità in classifica ha portato loro a giocarsi la partita come giusto che sia comunque l'acquaviva è un gruppo consolidato da tanti anni abbiamo avuto un buonissimo approccio non abbiamo avuto la fortuna di fare gol abbiamo anche concesso una parte del primo tempo il pallino del gioco all'acquaviva e poi il secondo tempo siamo entrati con una grandissima determinazione ed è fruttato anche il gol e poi alla fine purtroppo nell'ultimo minuto di recupero c'è stata questa beffa che comunque non cambia quello che è il nostro percorso so anche del distacco dalla seconda che non è cambiato per nulla scoppiettante pari al generale basurto tra raccale e unione calcio in un match contrassegnato dal forte vento in cui è accaduto davvero di tutto tre gol per parte ma alla fine i maggiori rimpianti restano in casa ospite per il doppio vantaggio vanificato nel primo tempo e per la successiva situazione di superiorità nel punteggio non concretizzata nella ripresa dai bicegliesi che peraltro al novantesimo hanno colto anche un doppio palo a portiere battuto in avvio il tecnico dell'Unione Monopoli rinuncia al bomber amoroso acciaccato e si affida in prima linea all'assortito tandem composto da Sani e Suriano mentre il collega di Panca Calabuig opta in attacco per la coppia Romano Fitto l'Unione Calcio spezza l'equilibrio alla prima autentica opportunità minuto 16 angolo di Suriano e deviazione in mischia di Capitan Bufi con palla che si infila nell'angolo basso alla destra di Catelli replica Salentino al ventesimo col tentativo di Milessi dai 20 metri neutralizzato in bello stile da Rocchitelli mentre al venticinquesimo sono i bicegliesi a cestinare un invitante ripartenza con Sani ad imbeccare d'esterno Ziani quest'ultimo rivelatosi però nella circostanza troppo lezioso al ventinovesimo il Racale accarezza il pari con l'incornata sottomisura di Moran su invito da calcio piazzato di Flor del Mundo che si spegne in diurinezia sul fondo quattro minuti dopo tocca viceversa agli ospiti raddoppiare Paolillo verticalizza l'indirizzo di Sani che salta un difensore avversario e batte Catelli con una precisa soluzione dall'interno dell'area tutt'altro che dimesso il Racale dimezza il passivo al 36esimo con il 18enne Fitto che approfitta di un errato disimpegno di Miano e anticipa con una precisa puntata Rocchitelli in disperata uscita la sfida regala frequenti capovolgimenti di fronte e al 37esimo tocca a Farino la mettere i brividi a Catelli con un mancino dei 20 metri al lato di un soffio passa appena un minuto e l'undici Salentino ripristina la parità incursione sulla destra di Milessi che dal fondo apparecchia nel cuore dell'area per Romano il cui sinistro in corsa non lascia scampo a Rocchitelli fissando il 2 a 2 all'intervallo avvio di ripresa dei ritmi un po' blandi con prima chance capitata al Racale al 17esimo Romano arriva sulla linea di fondo e col destro serve un cross sul quale Filippi non arriva per un soffio l'unione calcio attende il momento propizio per mettere da capo la freccia al 28esimo Farinola si produce in un'autentica sassata dai 25 metri con il mancino che piega le mani a Catelli incastonandosi sotto l'incrocio 5 minuti più tardi però i padroni di casa riacciuffano da capo la squadra di Angelo Monopoli Fitto colpisce la traversa due volte nella medesimazione poi il fischietto Tarantino Albano giudica e regolare il contatto di Binetti su Romano e assegna il rigore trasformato da Flor del Mundo è il preludio ad un finale di gara altrettanto palpitante al 44esimo Rocchitelli non è impeccabile sul piazzato di Milessi ma riesce in ogni caso a sventare in angolo mentre proprio al 90esimo è l'unione calcio ad imprecare contro la cattiva sorte per il doppio legno timbrato da uno scatenato Farinola con un altro bolide dalla distanza prima che Binetti spedisca fuori da buona posizione finisce così 3-3 domenica prossima l'unione calcio riceverà al Diliddo il Foggia in Cedit mentre il Racale sarà di scena nella trasferta al San Sabino di Canosa Poletti apre Fucci chiude è 1-1 tra Brillacampi e Spinazzola con gli ospiti che si salvalo nel recupero grazie al guizzo di un subentrato i Salentini vanno più volte vicini al raddoppio per poi essere beffati nel finale ottima comunque la reazione degli Spinazzolesi dopo un primo tempo ampiamente insufficiente è un Brillacampi gasato dopo i pareggi di lusso contro Polimni e soprattutto Barletta mister Antonio Patruno rimette la zona playoff nel mirino affidando le sorti del peso offensivo al trio Diop facecchia Poletti dall'altro lato in acque paludose Zinfollino schiera tra le linee il nuovo arrivato Andre Garcia Bonanno incaricato nel dare qualità e velocità in corsia mettono subito le cose in chiaro i Salentini bella trama a sinistra Maniglia premia sul secondo palo l'inzuccata di Poletti che fa 1-0 dopo neanche due minuti fatica a carburare lo Spinazzola dall'altro lato il Brillacampi ha un paio di marce di vantaggio Diop semi nel panico scavalca Liso con lo scavetto ma il palo a dirgli di no gli ospiti in affanno nel seguire i movimenti degli attaccanti Poletti evita Dignelli Liso se la cava in respinta poi tocca Facecchia staccarsi dalla marcatura bel diagonale fuori davvero di poco lo Spinazzola resta in partita grazie al suo portiere Poletti vada a Facecchia Liso eccellente nella respinta ravvicinata un intervento che vale l'1-0 all'intervallo minimo vantaggio che sta stretto i Salentini più Vispo lo Spinazzola nella dipresa il primo tentativo di marca ospite arriva al 51esimo bordata di Cappellari su cui ci vuole un super carriero il Brillacampi abbassa leggermente il suo raggio d'azione Diomandè e Mbaie combinano bene Caruso cestino un gol praticamente fatto calciando debolmente girandola di Cambi tra i Salentini dentro anche Romero che nel finale si mette in moto assist per Attanasio botta che c'entra la traversa si salva Liso sembra cosa fatta per i giallorossi ma non è così corner Spinazzola confusione il gambone di Fucci da terra la piazza alle spalle di Carriero è 1-1 si salva in qualche modo lo Spinazzola che resta tuttavia imbrigliato nella lotta per non retrocedere un pari che lascia un sapore diverso rispetto a quello di sette giorni fa contro il Barletta per il Brillacampi la cui classifica resta tuttavia buona nel prossimo turno Atletico Acquaviva Brillacampi e Bitonto Spinazzola è tutto con risultate classifiche che tornerà come di consueto domenica prossima giorno dell'Immacolata 8 dicembre prima di salutarci vi ricordo il ricco palinsesto sportivo di Telesveva il lunedì come di consueto alle ore 15 cominciamo con Super Mario Sport Mario Boracino in studio con i suoi ospiti alle 20 e 15 chiacchiere da Bari con Stefania Di Michele Luca Guerra per parlare di Bari alle 21 e 10 si parlerà invece di Fidelisandria in Pane Amore e Fidelis poi vi proporremo alle 23 e 10 un'ampia sintesi di Gravina Fidelisandria con il commento di Stefano Massaro e Peppino Ernesto Peppino Ernesto che troverete con Aldo Lo Sito sempre a Pane Amore e Fidelis grazie per averci seguito e buona settimana a tutti voi